Intanto sull'università diciamo che manteniamo aperta l'attenzione per una localizzazione all'interno dell'ex cofa che non condividiamo. Non condividiamo altro cemento davanti al mare, ma condividiamo invece un obiettivo prioritario, cioè che l'università risolva i suoi problemi. Da questo punto di vista il Partito Democratico è pronto a scendere in aiuto naturalmente al governo cittadino e regionale per l'università. Poi notiamo una discordanza tra i documenti programmatici del Comune di Pescara e quelli della Regione. Il Comune di Pescara ha appena approvato il DUP, il Sindaco Carlo Masci chiede la localizzazione della sede della Regione all'interno dell'ex cofa. In realtà il DEFRO, cioè il documento di finanze regionale che approveremo il 27 in Consiglio regionale, non prevede assolutamente la sede unica della Regione Abruzzo e soprattutto non la prevede all'interno dell'ex cofa. Invece per noi è fondamentale prevederlo, tant'è vero che abbiamo preparato un emendamento sulla sede unica della Giunta regionale nella città di Pescara che possa rimettere assieme le sette sedi che sono attualmente presenti sulla città di Pescara, che creano inefficienze e diseconomie. E vogliamo che questo sia un obiettivo prioritario tra il 2020 e il 2022 in questo triennio, che sia realizzato in un posto accessibile, che dia dignità alle sedi della Regione Abruzzo, non solo per la Regione Abruzzo ma anche per i dipendenti e per i fruitori di questa ente, e soprattutto che sia ben collegato con le assi viari di ingresso ed uscita della città. Se poi riusciamo ad ottenere anche un altro obiettivo, che è quello della localizzazione all'interno di Pescara Ovest per la riqualificazione di quel quartiere, è ancora meglio. Ci teniamo però a precisare che non meno di cinque mesi fa il Sindaco Carlo Masci, presentandosi alla città nel suo programma di governo, stabiliva appunto che nella Villa del Fuoco, cioè in questa parte della città, andava localizzata la Regione Abruzzo, la sede unica della Regione Abruzzo. A cinque mesi di distanza ha cambiato completamente il proprio pensiero.